Salve amici, buongiorno. Stamattina volevo fare quattro chiacchiere con voi perché ieri, proprio ieri, mi sono trovato con un amico che diceva che lui era un tipo sempre, andava sempre di fretta, che insicura, non sapeva prendere decisioni, se che cosa fare, e nonostante tutto aveva sempre una fretta, una fretta di fare le cose e poi di cui non era nemmeno convinto. Allora mi chiedeva dei consigli, voi sapete che io sono contrario a dare consigli, ma espongo delle idee e quindi volevo parlare oggi di come prendere le decisioni. Ora, quando si parla di come prendere le decisioni, ovviamente non si scende mai nel particolare perché si indica solamente un metodo. Chi mi conosce lo sa che io sono un fautore dell'istinto, quello che i grandi psicologi taoisti chiamano il sé, che è qualcosa che nasce da dentro di noi, quindi ognuno ha il suo dentro, ognuno ha il suo io, però cosa succede? Succede che spesso questo nostro sé, questa nostra intelligenza interiore è sopraffatta, è sopraffatta dal modo nostro di vivere, della società, dal contesto nel quale viviamo. Quindi, date che le decisioni da prendere dalle più piccole alle più grandi sono innumerevoli, noi spesso facciamo prevalere la mente razionale che ci indica delle soluzioni che, come dire, devono compiacere a qualcuno, ad esempio negli studi, nel lavoro, nelle relazioni di coppia, ma anche nelle cose più banali, no? Nella scelta di un vestiario, di un paio di scarpe. Quindi si va dai problemi di poco conto a problemi di un certo livello. Quindi ci vuole una metodologia. Vedete, noi fin dalla nascita abbiamo un progetto di vita che è tutto nostro. Abbiamo un nostro modo di vivere, come le tante piante che ci sono nel mondo, i vari animali, ognuno c'è il suo modo di vivere. Però è come un seme, un seme che ha dentro se stesso un'intelligenza che già sviluppa la pianta che vorrebbe in futuro diventare. Quindi il problema nasce che se noi siamo, ad esempio, una pianta di, non so, di ulivo, è il fatto di voler diventare un ciliegio, di voler diventare un'altra pianta. È lì che nasce il problema, quello dell'omologazione, quello del poter somigliare. Ora, poi cosa succede? Succede che spesso si ha anche fretta. La fretta è figlia dell'insicurezza. L'insicurezza è figlia della mancanza di autostima. Quindi, ciò che bisogna fare, innanzitutto, come base, è avere più stima di sé, quando io parlo di autostima. Avendo più stima di sé, non si ha temore che gli altri, i cosiddetti altri che stanno intorno a noi, possano dire qualcosa. Ora, quando si ha la stima di sé, cosa succede? Che noi poniamo in essere delle cose che ci fanno piacere, ci fanno piacere e che magari poi ci accorgiamo e portano degli errori e noi siamo pronti a coseggere il percorso. Quindi, è importante, questo discorso qua è importante, quella della fiducia e della stima di sé, perché altrimenti noi siamo troppo condizionati. I problemi ce li abbiamo tutti, tutti ce li abbiamo problemi. Chi è che non c'ha un problema? Uff, quanti problemi! Allora, ciò che ostacola di più la soluzione dei problemi è pensarci, pensarci, ripensarci, perché la mente poi entra in un circolo vizioso e offre tante soluzioni dettate dai luoghi comuni. E poi, la cosa più incredibile è che quando noi chiediamo consigli, e non è che lo chiediamo a una persona di cui noi ci fidiamo, no, lo chiediamo a tante, a volte lo chiediamo a cento persone, ognuno che non capisce nemmeno quello che tu stai vivendo, ognuno dice la sua, e la confusione aumenta. Invece il problema va visto, dici io, va visto una sola volta nella giornata, dici io, potrei fare questo, ho questo problema, potrei un lavoro così, potrei un rapporto così, basta, poi dopo non ci si dovrebbe più pensare, non ci si deve più pensare, e bisogna applicarsi alle azioni che si fanno, le cosiddette azioni minime, cioè bisogna stare concentrato su quello che si fa, mettere passione, immergersi proprio in quello che si fa. in tal modo cosa succede? Si attivano dentro di noi delle soluzioni che ci mostra l'inconscio, quello che Goethe chiamava le coincidenze sincroniche, cioè accadono dei fatti, delle cose a cui noi non possiamo pensare, non avevamo pensato, incontri, soluzioni, che vengono da sole, da sole, se noi ci distacchiamo dal problema. quindi prima fiducia in se stessi, autostima, non pensare ai problemi, se non una sola volta, e non avere fretta, non mi voglio fare la testa così, poi non avere fretta, se c'è, se mi dicessero qual è il male maggiore di questa società, è avere fretta, le società margaiche, ma anche fino a poco tempo fa, avevano un ritmo più lento, perché si aspettava, si aspettava il tempo opportuno, anche i contadini, aspettavano il tempo opportuno della semina, dell'accorto, anche la gestazione stessa, di una donna richiede il tempo che, invece no, noi abbiamo fretta, la fretta, come si dice, è cattiva consigliere, che è vero, dobbiamo sapere attendere, svuotare la mente, e attendere, attendere, però non a livello passivo, cioè non è che noi attendiamo, ci mettiamo a dormire, no, dobbiamo stare vigili, dobbiamo stare attenti, cogliere le occasioni, senza fretta, il mestiere di vivere, alla fine, non è difficile, i problemi, se ci riflettiamo, al 90%, ce li creiamo noi stessi, come nostre ansie, con i nostri temori, diceva Biante, un filosofo greco, oltre duemila anni fa, chi si preoccupa, prima del necessario, si preoccupa, più del necessario, ed è così, ed è così, allora, c'è un problema, un problema di coppia, un problema di lavoro, bene, pensa a quel problema, poi distaccati, distaccati da quel problema, fai altro, soprattutto di pratico, soprattutto di pratico, soprattutto di materiale, c'è la soluzione, che nasce da dentro di noi, cioè le soluzioni, che noi abbiamo nell'interno, non si possono mai attivare, se noi siamo proiettati, verso gli altri, cioè gli altri, cosa dicono, cosa pensano, cosa ci stanno dicendo, cosa sono le aspettative, che ci hanno su di noi, come ci giudicano, ci sono persone, che sono ridotte al zero, proprio nella mente, che non sanno più nemmeno, come vestirsi, come cucinare, come fare una frittata, con due uova, perché, ma non perché non lo sappiano fare in sé, che sono cose facili, ma perché hanno paura, che poi qualcuno vede, dice che, e poi si sentono zero, una nullità, no, cari amici, ognuno è perfetto, se fa fiorire, quello che si ha dentro, senza fretta, senza voler somigliare a nessuno, so che è un tema molto difficile, e ci sono persone, che vanno spendendo soldi, vanno spendendo soldi, da psicologi, psichiatri, si fanno imbottire, pure il cervello, di cose che non esistono, spendono soldi, e poi parlano dei loro problemi, del passato, no, io perché ho avuto una madre, un'infanzia difficile, ho avuto un padre, che era violento, sono tutte scuse, sono tutti meccanismi sbagliati, qualsiasi sia stata la nostra infanzia, il nostro passato, che poi, non è stato facile per nessuno, io sfido chiunque a dire a me, è tutto rosa e fiore, è stato, ognuno ha il suo vissuto, non importa, i nostri problemi, non derivano da là, non derivano da là, derivano da noi, ci sono persone, che hanno superato, che vivono bene, nonostante, che abbiano avuto, delle infanzie terribili, non creiamo alibi, per giustificare noi stessi, non creiamo alibi, quindi questo è il mio invito, amici, è solo uno spunto, perché, l'ho tratto da questo piccolo dialogo, che, io l'ho avuto con questo amico, che, lo vedevo troppo, troppo frettoloso, ansioso, insicuro, dicevo, tu ti devi dare una calmata, non devi pensare, devi staccare la spina, non devi avere fretta, devi pensare a te, alle soluzioni, che ti nascono da dentro, spero che, questa riflessione, possa essere, di un piccolo aiuto, vedete, non è difficile, è più difficile, a spiegarlo, questo è un metodo, non è un consiglio, vedete, questo è un metodo, perché, il consiglio, volta per volta, sui vari fatti, non si può mai dare, perché poi sono fatti ognuno, con le sue peculiarità, questo è un metodo, è un metodo, e io, ve lo consiglio, perché poi, pian piano, imparerete, ad ascoltare, il vostro istinto, il vostro sé, che è l'unica fonte, l'unica fonte, che vi può dare, veramente, la serenità, e attacchi, anche di felicità, perché, è una sorgente, che non mente, che veramente, vuole il tuo bene, gli altri, vogliono il tuo bene, finché fa comodo a loro, va bene, quindi, fatemi sapere, cosa ne pensate, accetto suggerimenti, critiche, costruttive, e, vediamo, alla prossima, grazie, ciao a tutti,